che documentano la presenza di una discarica di Ethernet nei pressi di Spoleto in Umbria. Il pericoloso materiale di costruzione è entrato in disuso perché altamente è tossico e da mesi le pericolose lastre di Ethernet si trovano lì incostudite, guardate, nonostante diversi enti competenti siano stati interpellati proprio sulla bonifica, scusate, sulla rimozione di queste lastre. Allora ringraziamo tutt'oggi.info questo video che ci arriva da Spoleto, anche voi naturalmente potete inviarci le vostre immagini.